ok si stanno posizionando le bandiere anche in piazza monumento monumento quando arrivano le bandiere a legnano è veramente tempo di palio siamo entrati nel palio ecco il guerriero vediamo la ditta specializzata che si sta attivando hanno già fatto per le vie della città giusto più o meno ormai quasi finito tutto mancava solo il guerriero e quatt'altro rione vediamo ecco il lomino che ci saluta e quindi in qualche modo ci siamo quasi quindi è stata già posizionata santerasmo san magno sant'ambrogio san bernardino ormai ci siamo quasi ecco qui eccolo che ci sono tutte le bandiere ormai ci siamo ora mancano la flora e le altre bandiere quindi lasciamo lavorare i signori e magari più tardi i commenti